Io mi sono emozionata molto perché mi sono ritrovata in ogni singola nota, mi sono sentita veramente raccontata, veramente capita, proprio mi ha scatenato un'onda emotiva per cui veramente non pensavo che si potesse capire, raccontare e tradurre in suono quello che alla fine è l'anima e il vissuto personale, mi ha ammazzato tantissimo. Posso dire che se un domani tu, se un domani dovessi tornare qui sono sicuro che ti ispirerei a un'altra musica perché probabilmente è dovuto dal mio stato d'animo che in questo momento, come posso dire, sto esprimendo e che tu riesci a leggere, a tradurre in musica. Tanto bellissima esperienza, nuova esperienza mai provato e ti ringrazio. È stata veramente una... ho provato un'emozione veramente intensa. La prima volta della mia vita, ho trovato bellissima la prima parte della melodia, quasi... mi onora, non so se corrispondo veramente alla bellezza della prima parte della seconda. L'ho trovata più lenta, quasi una... cortesiale da ogni respiro. Quando hai creato questo fondo profondo, questi suoni ribaditi con insistenze forti, mi ci trovavo anche. Quindi non aveva soltanto un'allegoria, ma diventava quasi simbolica, però mi piace. Per me è da provare essere il tema di un'improvvisazione... è da provare. Questo è quello che mi riconosco tantissimo, soprattutto nella parte iniziale, veramente bravo. Mi ha colpito all'ampiezza dell'escursione, che probabilmente anche denonta alcuni aspetti del mio carattere. Comunque l'ho sentita molto risonante. Mi ha dato un sacco di emozioni, quindi mi ha... mi ha veramente scosso nell'anima, nel cuore. Ho sentito... brividi. E questo è il talenarsi di dolcetto alla impetuosità, eccetera. Questo mi rappresento, grazie.